ciao a tutti prima di iniziare un piccolo annuncio che riguarda un evento molto importante che è la maker fair a roma che si svolge nelle giornate dal 18 al 20 di ottobre se avrete la possibilità di venire vi invito a visitare lo stand di jlc pcb che come sapete è il nostro sponsor ufficiale di questo canale sarò presente anch'io probabilmente nella giornata del sabato quindi il 19 di ottobre e allo stand vi anticipo che potrete ricevere dei coupons per la realizzazione dei circuiti stampati e anche dei gadget dei simpatici regali insieme a me ci saranno anche altri youtuber e creator che potranno supportarvi durante la visita dello stand jlc pcb è leader mondiale nella costruzione di circuiti stampati con un metodo innovativo specializzato soprattutto per i prototipi di fatti con soli due dollari riuscirete ad ottenere dei prototipi di ottima qualità e in tempi velocissimi ci sono più di 700 mila clienti in tutto il mondo e di recente è stato aperto anche il nuovo servizio di montaggio smd che vi invito a provare quindi se sarete presenti alla fiera mi raccomando venite a vedere i pcb così potrete constatare con mano la qualità del servizio e la facilità con cui si può appiazzare un ordine con questo è tutto andiamo al video di questa sera ricevo da paolo di roma questo piccolo oggetto che è un super overdrive della dixon quindi un pedale da utilizzare con strumenti elettrici come la chitarra per creare distorsioni e effetti musicali come sempre prima della riparazione vera e propria faremo un piccolo richiamo di teoria per capire il principio di funzionamento di questo tipo di oggetti quindi daremo un'occhiata a degli schemi classici in modo da inquadrare la tecnica e capire come viene effettuata effettivamente una distorsione musicale buona visione ecco qui il nostro pedale di paolo e c'è anche una lettera che io apprezzo sempre molto perché mi sembra un tocco personale e poi soprattutto è utile per capire paolo ci dice che il pedale funziona ma non benissimo ha provveduto a sostituire i potenziometri il led ora non si accende più e però il problema che lamenta è un fastidioso ronzio che è sempre presente ed in particolare si alza se viene azionato il level quindi più si alza il level e più questo ronzio è presente si dice anche che è un modello non true bypass e se potesse diventarlo sarebbe meglio grazie di tutto aspetto news questo è il modello super overdrive della dixon come sempre prima di aprirlo per la riparazione facciamo un brevissimo richiamo alla teoria che sta dietro a questi oggetti facciamo subito una distinzione fra dispositivo distorsore o overdrive potremmo dire che il distorsore è un'evoluzione dell'overdrive entrambi operano una modifica al segnale in ingresso cercando di arricchire il contributo spettrale del segnale di uscita ma lo fanno in maniera diversa in particolare il distorsore opera il clipping e quindi dato un segnale di ingresso qua in nero il distorsore fa in modo di amplificare e tosare quindi mandare in saturazione lo stadio di amplificazione al fine di andare a creare delle armoniche che tipicamente sono dispari per cui il segnale originale supera la dinamica massima per il quale è stato pensato e va proprio a saturare gli stadi il distorsore ha quindi una timbrica molto tagliente e quindi adatto per genere rock o hard rock l'overdrive viceversa non applica clipping quindi non va a tosare la forma d'onda originaria ma fa in modo di applicare un'equalizzazione non lineare ossia per tutte le frequenze viene applicata una trasformazione che fa sì di concentrare la potenza sui picchi ma stando attenti a non ottenere tosature questo tipo di trasformazione crea delle armoniche pari che da un punto di vista musicale rendono il suono più caldo è anche chiamato infatti soft clipping ma il clipping non avviene questo schema blocchi ho generalizzato la funzione di distorsore o overdrive si può dire che dall'ingresso abbiamo un primo blocco che ci permette di commutare il segnale sulla catena distorsore oppure su questa rete di bypass e quindi il segnale praticamente potrebbe uscire in variato quello che ci diceva paolo parlava di un true bypass e quindi servirebbe proprio un collegamento diretto ingresso uscita poi incontriamo un blocco tipicamente dove si fa una piccola preamplificazione quindi magari può essere un singolo transistor per preparare il segnale a il vero e proprio distorsore in questo blocco ci sono due ingressi che tipicamente sono a potenziometro il drive e il tone che fanno in modo appunto di creare questi effetti con la nascita di nuove armoniche in saturazione oppure tramite il tone con una variazione in frequenza del suono dopodiché abbiamo lo stadio di uscita che deve disaccoppiare gli stadi a monte rispetto a quelli a valle per cui avremo tipicamente dei transistor o comunque degli oggetti che ci permettono di pilotare poi il carico dopo e infine il l'interruttore che va a richiudere il circuito di bypass nel caso venga azionato questo è uno schema elettrico che ho ritrovato in rete di un oggetto chiamato boss ds1 che è un overdrive e come vedete ritroviamo i nostri blocchi infatti abbiamo una prima parte di preamplificazione con questo transistor q5 poi la zona drive quindi con questo potenziometro che va a pilotare questo o pump con questa rete la zona di tone un altro o pump il level che non è altro che un altro potenziometro che va a prelevare la quota parte del segnale che ci interessa quindi possiamo aumentare o abbassare il diciamo la potenza e il volume ed infine lo stadio di uscita con l'output in questo caso abbiamo un blocco oscillatore che governa la parte in uscita per creare degli effetti particolari di distorsione su questo modello della dixon a pedale riconosciamo a malapena le scritte qua è un out in che sono i due connettori appunto per il l'ingresso e l'uscita del segnale i nostri tre potenziometri level tone e drive qua abbiamo anche il led check che se vi ricordate lo schema di prima era sull'uscita infine abbiamo questo connettore che serve per l'ingresso esterno perché questi oggetti possono essere alimentati o a batteria o anche con una tensione esterna sul retro dell'oggetto abbiamo una placchetta dove è indicato lo schema di connessione dell'alimentatore esterno ecco una cosa molto importante vedete che il positivo è sulla parte esterna e il negativo sulla parte interna e ci stiamo riferendo a questo connettore questo è importante perché solitamente si è abituati a pensare che l'anima del connettore sia il positivo e la corona il negativo in questo caso no e qua però viene specificato abbastanza bene con questo disegno anche se non si legge molto bene per l'occasione usiamo due jack maschio da 6.3 mm sia per portare il segnale in uscita e in ingresso se vado a vedere le due masse ingresso uscita sono in continuità invece ovviamente i due segnali no non sono in continuità né fra di loro né con la massa collego in ingresso un generatore di funzioni e il canale 1 dell'oscilloscopio in uscita il canale 2 inietto un segnale sinusoidale alla frequenza di un kilohertz e ampiezza 500 millivolt rms sul canale 1 ritrovo il mio segnale infatti abbiamo che il massimo è 1.44 volt sul canale 2 abbiamo praticamente zero e rimane così indipendentemente se spingo il pedale o aziono i vari potenziometri il valore di 1.44 è corretto perché il mio generatore di funzione quando dice 500 millivolt rms si riferisce alla parte positiva quindi sarebbe un volt rms e la tensione di picco per 1.41 radice di 2 1.44 quindi circa ci siamo apriamo il pedale agendo sulle quattro viti poste sul retro togliamo il coperchio che è di metallo abbastanza spesso e pesante qua abbiamo un foglio di materiale isolante e qua abbiamo il retro del circuito stampato semplicemente sollevandolo ecco che arriviamo al circuito stampato per la verifica del led andiamo direttamente sullo stampato sui due contatti più e meno e con il multimetro andiamo a vedere se vediamo tensione di soglia e quindi applicando la tensione positiva sull'anodo e la negativa sul catodo dovremo vedere accendere il led se il led è buono il led si trova lì in fondo e i due fili arrivano sullo stampato su questi due terminali dove abbiamo indicato anche la posizione del più e del meno quindi se andremo a mettere il terminale più sul più e il negativo sul meno si dovrebbe accendere il led si il led è funzionante per quanto riguarda il cablaggio del led noto che ci sono dei fili che sono volanti quindi questi andranno rimossi perché se accidentalmente andassero a toccare l'altro contatto potremmo avere dei problemi inoltre la saldatura va ripassata perché se guardiamo lato saldature vedete che c'è una piccola area in cui la pista del circuito stampato sia un po alzata per cui potrebbe essere che con le sollecitazioni le vibrazioni questa saldatura rischia di venire via e il contatto elettrico fra la pista e il filo che porta al led non è più in continuità questo potrebbe essere forse una delle cause per cui il led si spegneva da questa angolazione il problema risulta più evidente come vedete la pista del circuito stampato è praticamente si strappa e con il fatto che il filo esercita un po di forza non c'è più il contatto di caso conviene portare via lo stagno vecchio stando attenti alla pad che non venga via rieffettuare la saldatura ed eventualmente fare collegamenti di questo pin tramite magari anche un filo ad altri reofori in modo che possiamo garantire una connessione salda ecco la nuova saldatura direttamente sulla pad per alimentare l'overdrive mi procuro un cavo da pc che era un vecchio hp e ricordiamoci che la polarità deve essere invertita quindi sul polo centrale andrà il negativo sul polo sulla corona circolare il positivo il connettore direi che va bene realizziamo il collegamento quindi positivo sulla parte della calza negativo sul centrale imposto il mio alimentatore con 9 volt e poi metto anche una limitazione in corrente nel caso che ci sia qualcosa che vada storto l'alimentatore andrà a limitare colleghiamo l'alimentazione spingiamo il pedale led rosso si accende adesso proviamo ad andare giù in tensione vediamo quando si spegne il led ovviamente in corrente indicativo sulla 9 volt e di circa 10 milliampere andiamo a calare la tensione piano piano 8 volte 5 il led si sta abbassando di luminosità ma è sempre acceso ecco 7 volt a circa 7 volt 6 volte 5 ecco ecco giù di qua abbiamo che il led va in spegnimento con le sonde andiamo a effettuare le misure con l'oscilloscopio ho impostato entrambi i canali con risoluzione verticale 200 millivolt in ingresso sto dando una sinusoide a 1 kilohertz in assenza di alimentazione l'uscita ovviamente 0 se accendo la 9 volt ecco che compare l'uscita quindi con il pedale alimentato il led è spento il segnale è passante se spingo il pedale si accende il led rosso e si applicano le distorsioni con tutti i tre potenziometri a zero il segnale di uscita è una copia leggermente attenuata dell'ingresso abilito le misure alla frequenza di un kilohertz in particolare vediamo che il vrms è 198 millivolt per l'ingresso e 158 per l'uscita quindi una differenza di circa 40 millivolt aumento la frequenza del segnale così vediamo come varia questa risposta in modalità senza distorsione qua siamo a 6 kilohertz andiamo ad esempio a 10 kilohertz allarghiamo un po la base tempi e andiamo a ripetere la misura in questo caso abbiamo 204 millivolt in ingresso 161 in uscita quindi abbiamo sempre circa una quarantina di millivolt di differenza anche a 20 kilohertz la distanza fra l'ampiezza rms dei due segnali è rimasta più o meno costante mi riporto a un kilohertz e spingo sul pedale con tutto a zero ovviamente l'uscita è zero se aumento il primo potenziometro che potenziometro del livello livell vedete che amplifica il segnale però rispetto a prima notiamo che abbiamo sicuramente uno sfasamento e poi la forma d'onda non è proprio una sinusoide ma sembra quasi un'onda triangolare con i vertici smussati questo è vero la frequenza di un kilohertz ma già se la raddoppio a 2 kilohertz vedete che si è molto attenuato il segnale 3 kilohertz 4 kilohertz 5 kilohertz e così dicendo quindi con il livello al massimo vedete che il disco il distorsore in funzione l'overdrive abbiamo un'attenuazione dell'uscita sostanziale adesso mi posiziono con il livello più o meno a metà e vado ad agire su il potenziometro del ton se lo giro qua sono più o meno a metà corsa vedete come si deforma la nostra forma d'onda ecco questo è il classico esempio di overdrive in cui la dinamica del segnale di uscita ha superato quella del segnale di ingresso con una forma d'onda che non è più sinusoidale ma sicuramente contiene delle altre armoniche infatti vedete che sembra quasi e tende alla forma d'onda quadra e quindi significa che sono state inserite delle nuove armoniche ancora una volta se vado su in frequenza 2 kilohertz 3 kilohertz vedete che l'uscita comunque viene attenuata quindi il nostro overdrive lavora bene nella zona diciamo fino agli 8 kilohertz dopo attenua parecchio mi riporta a un kilohertz a un livello circa intermedio col ton a zero vediamo la funzione di drive qua sono a zero se vado su vedete che c'è una piccola distorsione del segnale poco apprezzabile per apprezzarla devo amplificare un po con il nostro ton e adesso agisco nuovamente sul drive vedete che interviene sempre con una funzione di clipping asimmetrico tale da produrre sempre delle armoniche diverse quindi per quanto riguarda le funzioni di overdrive mi sento di dire che l'oggetto sta funzionando correttamente veniamo ora al problema del ronzio il ronzio è un fenomeno che avviene quando si creano dei loop di massa cioè la 50 hertz della rete elettrica che è imparentata con l'alimentazione di questo overdrive per qualche motivo viene ad essere accoppiata internamente da questo oggetto e quindi viene amplificata e si somma al segnale utile creando il fastidioso ronzio noto anche come rientro per eliminare o comunque cercare di attenuare questo ronzio bisogna lavorare sull'alimentazione infatti fa moltissima differenza la sorgente di alimentazione che si viene ad utilizzare per questo tipo di pedali questo tipo di pedali spesso viene accompagnato e venduto con un alimentatore cosiddetto da muro e quindi preleva la 230 volt di rete e la trasforma in una tensione continua ecco che a seconda del tipo di alimentatore il problema di ronzio può essere più o meno evidente difatti questi alimentatori hanno un piccolo stadio trasformatore un rettificatore un filtro e un regolatore di tensione che cerca di stabilizzare la tensione però il ripple a 50 hertz non viene completamente abbattuto e ce lo possiamo ritrovare fastidioso nell'audio del nostro amplificatore questo perché all'interno del pedale ci possono essere delle piccole differenze di potenziale e si vengono a creare dei loop di massa che rendono questo fenomeno abbastanza evidente il problema è maggiormente amplificato se le pedaliere sono più di una e ognuna va con un alimentatore di questo genere alla ciabatta ecco che quindi la maglia di massa si complica e il ronzio può diventare veramente insopportabile quindi le soluzioni possono essere sostanzialmente di due tipi la prima prevede l'utilizzo di un alimentatore stabilizzato apposta per pedaliera con uscite separate in questo modo si potranno collegare più pedaliere e questo alimentatore non farà comparire delle differenze di potenziale fra le diverse uscite perché saranno tutte isolate l'altro modo è quello di utilizzare un alimentatore a batteria e lì proprio il ronzio non c'è per niente perché la 50 hertz essendo una batteria viene fornita direttamente corrente continua tra l'altro oggi con le batterie a litio che hanno grandissime capacità e durate si può anche avere un package ridotto con moltissima autonomia se volete approfondire i meccanismi di accoppiamento del rumore sia per via capacitiva che per via induttiva potete guardare i miei video 486 e 488 ho in programma a breve anche un video sui ground loop e come mitigare il problema del rumore per cedere al compartimento batteria sarà sufficiente svitare la vite su questa parte del pedale e si potrà aprire la scatola in questa versione non era predisposto lo possiamo montare prendiamo una batteria nuova da 9 volt un cappuccio sempre da 9 volt e andremo a infilare i fili all'interno di questo buco per la connessione del cavetto della batteria sappiamo che questo è il punto a cui andrà al meno e potrò saldarlo direttamente dall'altra parte su questo c'è il più però non è accessibile bene da questa parte perché è una linguetta che se vedete è all'interno qui quindi non riesco ad accedere bene a questo punto e quindi vado a saldare il filo rosso su questo reoforo quindi seguo la pista su questo qui che è una delle due resistenze che si trova poi dall'altra parte prendiamo due parole velocissime sullo schema abbiamo riconosciuto quindi lo stadio con questi due opamp che sono integrati in un unico circuito e si tratta dell'upc 4558 c questo opamp ha una compensazione interna della frequenza ed è particolarmente indicato per il basso rumore per la realizzazione di preamplificatori nel nostro caso esegue il controllo di drive e di tone grazie agli opamp riusciamo a realizzare dei filtri attivi e se vi interessano potete guardare i miei video 347 e 344 dove riguardo la teoria di base degli opamp quanto riguarda questo schema possiamo dire che ha un'impedenza di ingresso di quasi 470k un'impedenza di uscita assimilabile a 10 15k ohm e una corrente assorbita sulla 9 volt grosso modo di 3,5 4 mili ampere per cui anche l'operazione in batteria non dà nessun tipo di problema e durerà veramente tanto e come abbiamo detto prima lavorare con una batteria e tensione continua si risolve automaticamente il problema del ronzio per quanto riguarda quindi l'analisi guasto e autopsia in questo caso avevamo due problemini uno una saldatura su una pad che non faceva toccare bene il led in un altro caso si era staccato un filo interno infatti la parte critica di questi oggetti è proprio la parte di connessione degli elementi esterni come potenziometri connettori al circuito stampato perché è realizzato direttamente tramite fili che se movimentati o comunque sottoposti a vibrazione possono anche interrompersi bene il video termina qua come sempre se vi è stato utile o vi è piaciuto un bel pollice in su io vi saluto ciao e alla prossima ciao 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 ciao